Sì, ok, diciamo abbiamo eseguito questa mattina questo sequestro preventivo nei confronti della famiglia Rinaldi, sequestrando dei beni per circa un milione di euro, immobili, immobili, molti beni immobili, conti correnti con una disponibilità economica importante, un'operazione diciamo che è stata svolta in contemporanea, un'indagine collegata tra la Guardia di Finanza e la Squadra Mobile e quindi volevo proprio segnalare questa forma di sinergia che si è creata tra le due forze e l'ordine per cui mentre la Squadra Mobile ha compiuto gli accertamenti sotto il profilo fattuale, intercettazione eccetera, la Guardia di Finanza di parallelo ha svolto gli accertamenti patrimoniali che hanno consentito di chiedere al giudice questo sequestro che è stato eseguito stamattina e che credo che in una realtà come imperia sia un fatto significativo che delle persone gravate da precedenti penali importanti comincino ad essere attenzionate anche sotto il profilo dei sequestro e delle misure patrimoniali. Grazie.